Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa presentazione di questa serie che inizieremo io giovani del mondo no, allora togliamo questo, se non fu un attack it e lui ha un intestino creeper però vabbè lascia stare, come intestino creeper no? L'avevo tolto una volta, va bene, tu c'hai un intestino grattacielo qua che adesso costa, è il tardi, il sidiota, vabbè comunque, è una serie serena, il bearwolf 20 pack, poi abbiamo tolto un po' di mod, in totale sono, 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 una sessandina, una settandina, non mi ricordo, abbiamo tolto 60 mod, no in totale sono, una sessandina che ci sono? No, sono, sono, 94, 94 sono? F3B, eh, l'avevo tolto un atto tipo, ne abbiamo tolto, un 3, 3 tipo, si, 3, abbiamo, abbiamo tolto quelle inutili tipo la factorizzazione, chi cazzo se l'ha metterata? Abbiamo 35 e pagina, abbiamo tolto la MFFS, MFFS, la? Abbiamo tolto la mod che toglie i fiori, tutti i fiori strani, e abbiamo aggiunto ragazzi, 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 e ragazzi, te l'aspetto, come dice, poi ce l'ho preparato, no, non ce l'ho preparato, cioè questa che sarà, anzi, non ve la facciamo vedere, no, ve la facciamo vedere, così che mi ha rete proprio la bocca asciutta, cioè, sono un bastardio, no? O gliela facciamo vedere, che dici? No, gliela facciamo vedere. La facciamo vedere? Sì. Allora, cioè abbiamo aggiunto questa mod qui, che voi non sapete neanche la figata di questa mod. Io non dico niente, però basta già che, che in pratica aggiungi questi due blocchi qui. Ah, quindi sono la 1,5,2 per chi non lo volesse sapere. Già che dico questo, voi rimanete a bocca asciutta. Perché che c'è andrà questo? Questo lo conoscono già tutti. Eh, ma l'abbiamo aggiunto noi. Allora che c'è andrà? Vabbè, ma non gira nella Direwolf Vandy Pax. Ah, sì, ma non lo conoscono tutti. In pratica questa mod aggiunge questo, ecco. Allora, vi spiego. No, inizia a metterne in dando solo uno. Ok. Chi si ricorda la cara vecchia EE2? Io. Ecco, ok. Saprete che qualcun valore era finito, ci potrei fare tutti i valori, quelle robe là. Questa è la copia della EE2 nei nuovi pacchetti di Minecraft. Premendo shift, si possono vedere tutti i valori che hanno? Sì. Tipo, questo vale 66.000, tono brucio 1, poxerello 1, che non me lo brucia perché è più grande e quello del massimo che può contenere. In dando direi di bruciare un pistone. E invece, vedete, è aumentato 288. In dando aggiungiamo questi di qui che sono dei contenitori per contenere più energia e vi spieghiamo la moda. Ok. Ci l'ho messo? No. Ok. Qua bruciano tipo un po' di questo. Non me lo bruciano. Benissimo, ma non me lo bruciano. Una TNT posso bruciare, vedete, tutto posso bruciare. Ma non tutto, proprio tutto, per esempio, che ne so, vedete? La spain non si può bruciare. Dicendo cammina, quindi potete bruciare la mazza parte delle cose. Ma sembra pure qua potete lo stesso la lana e tenete shift. Tipo la lana vale 9, 8. Le cavo e bravo, cos'è. Mettiamo che hanno questi navi di giorno. Mettiamo tipo che noi vogliamo, volessimo... Questa cosa qua. No, no, non vogliamo una torre. Ok. Ok. Poi bastare toglierla che si risucchia di nuovo tutto. Ok. Se noi tipo volessimo questo, noi potremmo fare questo. Con l'energia che logica vada a buona disposizione. Eh, quindi una figata. È uguale alla vecchia E2. Per quanto tipo ci possiamo collegare un... No, che storia. Ci sono queste cose qua, guarda. Non lo sapevo. Ok, ma non me lo farò nuovare. Guarda, abbiamo, guarda, più comodi di questa. Abbiamo il divano in diamante. Io una volta non avevo tolto sto creeper, madonna. Togli. Ah, tone. Devo fare tone. Vaffan bene. La torre, va. Questo fa parecchio Skyrim. Vai. Cosa? Menden. Gli è corno, madonna. No, l'elmo di Skyrim. Proprio... C'è tipo che, no, scusi, no. Vai, che ti vanno. Non so se la seconda introduzione alla serie, che chiaramente ci sono, naturalmente, tutte le mode tecniche, tutte le appi. La giocheremo in corpo, io e Giovanni. Eh, sì, aggiranno sicuramente... Massimo una o due persone. Abbiamo intenzione di comprare un server e non questa. No, come se la serie inizieremo su un server, la inizieremo su un server comprato. Quindi non è stato da noi per Amaci. Che cazzo te dalle. No, ne è Amaci, un altro programma. Ah mai c'era mai passato di moto, ti fa schifo Infatto, quindi lo compieremo E ci inizieremo sopra la serie, questa l'abbiamo fatta giusto così velocemente Perché ancora non abbiamo il server Un video per presentare la serie, giusto per E quindi perfetto, infatti l'abbiamo a morire tipo però Era giusto per presentare la serie Tipo c'è il mio computer tipo che sta esplodendo C'è 8 programmi aperti per ostare un server Ok, facciamo avere qualcosina di sto perpettino nel video, no? Io sto cercando già di fare qualche cosa Tu cosa cazzo è? Cosa cazzo sei tu? Cosa? Tu cosa sei? Tu non sei niente, perfetto Eh, ci sono tutte le mani, fino a via un po' la lista delle mani, magari, facciamo un disconnect Attendo all'IP, non entrare dopo, sennò poi si vede l'IP No, attendo, non gioco, si C'è la Optifine, Minecraft Coverpack, Forge Mod Lover, Forge, Code Chicken Core Vabbè, questo è tutto in modo così La Nei, Power Cree, vabbè, Bandweb La Bullcraft, tutto La Thermal Expansion, Illustriacraft, la Mind Factory Appled, Bibliocraft La Nei, F-R, come in che cazzo sia La Forestry, Bincor, Charge Pads Charge Pads Chicken Chunk Compact, vabbè, Pannelli Solari, Low Voltage Quella roba qui, Computer, Under Storage L'Iron Chest Il Power Suite Railcraft, Tinker Construyte Thumbcraft, Twilight Forest Dark Craft, Energy Manipulator Quella roba qui, Computer, Under Storage Il Baccio della Lista Perfetto L'ho visto che, c'è una porta a DUN Ora vedete un attimo il video perchè devo andare nel server In DUNDI io vorrei dire che sto usando un altro programma per registrare non fraps Eh, action Non so come verrà il video, ma penso che verrà bene A te stai, vorrei provarlo a usare, però a me, cioè tipo, non funziona l'audio, devo risolvere Questo qua sta combinando un macello che non ti sa neanche cosa No, adesso, adesso voglio finire, voglio finire in grande stile Eh no, no, se no, no Ma mi hai sparito tu Ah? Mi hai sparito la neve Perché? Non lo so Mi hai sparito la neve Ah, ok Eh, togliamoci dalla Petro No, tipo, sta laggando il sale No, a me non sta laggando Vabbè Ok, si è sbuggato, si è sbuggato Ok, quindi Si accende la redstone sopra Vedo, dice Aspetta, aspetta Eh, come si fa, come si fa Di così, aspetta No, non così Eh, grazie No, fè Ma, madonna Cioè, ma non posso, non posso fare niente, voglio No, ormai questa è tipo la cosa più che usare di più nel ministero Volevo fare il scale, volevo fare il cannon umano, non è giusto Un po' alla fine gli metto le TNT scoppiava tutto Dov'è una TNT, sono sempre esagerato, come sai? È cresciato il sistema, nice Quindi No, non è cresciato il server No, non è cresciato il server Vabbè Tu sei nel, tu sei nel server, scusa Si, lo so, lo so Con questo video è tutto TheStoreBoneLog1.0 Aspetta, aspetta Fatti, fatti Sarà una figata Fatti vedere almeno, fatti vedere Aspetta, dove vai Ah, sono cresciato Eh Ah, pure io sono cresciato, bello Sì, sarà una figata Mi consiglio di guardarla perché questo battetto è davvero, davvero fichissimo Appena avremo il server inizia la mia serie Quindi tra poco La 125 è stata stoppata Io devo fare giusto un altro impianto dove poi la stoppo pure io Ok Ehm Se no, se no stiamo caricando video, molti video in questo periodo è perché qua al sud Se ne sta menando di santa ragione, pioggia, vento, grandine E ogni in poco se ne va internet, poi ritornano e quindi non possiamo caricare tanti video Ehm Ehm Minecraft Vanilla La serie combinerà Anche perché abbiamo registrato un po' di episodio e lo ricariceremo Anche che la il server sarà comprato e penso non più stato da noi Mo vediamo Quindi, Diego, vi lascio a tutti quanti Ma andate pure a fangula adesso Ma stai zitto I soldi ce li siamo fatti, ma la c'è no Ciao a tutti Ciao Ciao